Abbiamo parlato di Toiano, ma non di una figura molto conosciuta, la cui storia è leccheggia per le vie del paese ormai abbandonato. La storia di Elvira e della sua tragica fine e del suo spirito, che vaga nelle vie del luogo. La storia di Elvira di Toiano attraversa i secoli, tinta di mistero e avvolta nelle nebbie del tempo. Questa narrazione, che si colloca tra la realtà e la finzione, narra di Elvira, una figura leggendaria il cui spirito inquieto continua a vagare per le strade di Toiano, un piccolo borgo che ancora oggi sembra sospeso, tra passato e presente. Ma chi era Elvira e perché la sua storia continua a incantare e inquietare al tempo stesso? Per comprendere la leggenda di Elvira di Toiano è necessario immergersi nelle sue origini e nel contesto storico che ha dato vita a tale racconto. Si dice che Elvira fosse una giovane donna del luogo, la cui esistenza si è tragicamente intrecciata con gli eventi storici e le credenze popolari del tempo. La leggenda tramandata di generazione in generazione ha radici profonde nella storia e nella cultura locale, riflettendo le paure, le speranze e i sogni di chi abitava quelle terre secoli fa. Elvira nella sua vita reale è stata probabilmente una figura di spicco nella sua comunità, circondata da una certa aura di mistero. Già durante la sua vita, tuttavia, è come spirito che Elvira ha acquisito una notorietà immortale, trasformandosi da persona in leggenda. Chi ha incontrato il fantasma di Elvira? Ci racconta di notti insonni, dove l'apparizione di Elvira si manifesta lungo i sentieri di Toiano. Sono stati condivisi per secoli questi racconti. Testimonianze descrivono una figura eterea, avvolta in abiti d'epoca, che si aggira silenziosa tra le rovine e i vicoli del borgo. Alcuni affermano di aver sentito la voce, un sussurro leggero come il vento che narra la sua storia d'amore e di dolore. Esplorare Toiano è come passeggiare in un capitolo dimenticato della storia, con i suoi edifici storici e le straordinarie che paiono narrare storie del passato. Luoghi come il castello di Toiano, ormai rovina, e le antiche chiese sono intrinsecamente legati alla leggenda di Elvira. Questi siti non solo offrono una finestra sul passato, ma sono divenuti parte integrante del mito, testimoni silenziosi di un amore perduto e di una vita che continua a eccheggiare nella memoria collettiva. Se dobbiamo riflettere, la figura di Elvira è stata oggetto di interpretazioni diverse nel corso degli anni, da incarnazione romantica del desiderio di giustizia a simbola della lotta femminile. In letteratura, arte, folclore locale, il mito di Elvira è stato rappresentato in molteplici modi. Ciascuno riflettente l'epoca e la sensibilità culturale di chi raccontava la sua storia. Oggi il fascino di Elvira richiede nella sua dualità un ponte tra il mondo dei vivi e quello dei morti, tra realtà storica e leggenda. Tutto questo può collegarsi alla storia di Elvira Orlandini. Elvira Orlandini, a mattina del ritrovamento di Elvira, rimase impressa nella memoria della comunità come un giorno di profonda tristezza e mistero. Elvira, una giovane promessa sposa, fu trovata senza vita vicino alla fonte del villaggio, luogo che lei visitava spesso per prendere l'acqua. Era una giornata soleggiata che si tingeva di oscuro quando la notizia della sua morte si diffuse gettando un'ombra sulla felicità prevista per il suo imminente matrimonio. Elvira fu trovata uccisa con la gola tagliata da un orecchio all'altro, vicino alla fonte, da dei pellegrini che stavano andando in pellegrinaggio in una chiesa, lì vicino. Elvira era conosciuta per la sua ovicità e la sua bontà d'animo. Nata in una famiglia stimata del villaggio, cresciuta con l'amore e rigore dei genitori, si era guadagnata l'affetto di tutti coloro che la conoscevano. Il suo matrimonio era atteso con grande entusiasmo, sia da lei che dalla comunità, che vedeva nell'unione un segno di continuità e prosperità. Amanti della storia e della tradizione, Elvira e il suo promesso sposo sognavano di costruire una famiglia basata sulle solide fondamenta ricevute dai loro stessi genitori. Al processo per l'omicidio di Elvira Orlandi, ci furono molti testimoni e fu anche molto lungo. Fronteggiato da una serie di difficoltà investigative, gli inquirenti impegnarono mesi nella raccolta di prove. La comunità seguì con trepidanza gli sviluppi oscillando tra la speranza di giustizia e la paura di non vedere il colpevole. Assicurato la giustizia, alcuni testimoni chiavi fornirono testimonianze cruciali, sebbene il loro racconto fosse a volte contrastante, aggiungendo ulteriori strati di complessità al caso. I testimoni chiavi e le loro testimonianze ci dicono che un amico di infanzia di Elvira rivelò di aver notato comportamenti insoliti intorno alla zona delle fonte nei giorni precedenti alla tragedia. La famiglia di Elvira testimoniò del suo carattere allegro e pacifico, sottolineando assenza di nemici o conflitti. Un passante occasionale ricordò di aver visto un individuo non identificato avvicinarsi alla fonte il giorno prima del ritrovamento. Diverse ipotesi furono formulate dagli inquirenti, dalla comunità sull'omicidio di Elvira. La gelosia e conflitti familiari o rancori personali furono esplorati come possibili moventi. Tuttavia, nonostante le indagini approfondite e le speculazioni di quei tempi, una vera e propria motivazione non venne mai completamente chiarita. Questa incertenza aggiunse un ulteriore velo di tragedia alla già dolorosa perdita di Elvira. Nonostante gli sforzi degli inquirenti e l'attenzione mediatica, il processo non portò alla condanna di un colpevole definitivo. La sentenza finale lasciò frustrazione e dolore. L'impatto sulla comunità e sulla famiglia di Elvira fu devastante, lasciando tutti con il peso di un mistero risolto e la memoria di una giovane vita spezzata troppo presto. La storia di Elvira Orlandini rimane un capitolo scuro della memoria collettiva del villaggio, un doloroso promemoria della fragilità della vita e della giustizia ed è forse proprio per questo che a tutt'oggi Elvira continua a girare per Toiano cercando l'anima di chi l'ha uccisa.